La coppia più bollente del momento, Mauro Icardi e Vandanara, non perde occasione per stuzzicare l'ex marito della modella e amico del calciatore Maxi Lopez e lo fa anche quando è impegnata sul set del nuovo spot Pepsi 5x1. A pochi giorni dal matrimonio, il giocatore ha persino postato su Twitter la foto dell'abito da sposo, si sono concessi di girare insieme la pubblicità irriverente, almeno quanto i colpi di testa di Icardi, della bebita gassata e ovviamente, secondo i meglio informati, non mancano le frecciatine a Lopez. Nello spot infatti vediamo Mauro che per ottenere una bottiglia gratis di Pepsi ruba 5 tappi, come ha sottratto la sua vanda all'amico Maxi e poi scappa con lei a bordo di un bolide nero-azzurro sul retro del quale c'è il disegno di due bambini. Ora, nella realtà sono tre e a quanto pare stanno crescendo con Icardi e con il loro vero padre. Infine, chi ci vede un complotto contro Maxi Lopez fa notare addirittura che la canzoncina in sottofondo recita Sto guardando la tua ragazza, quindi non ho nulla da dirti, lei mi piace e anche io piaccio a lei. Due indizi fanno una prova, tre danno una certezza, voi però che ne pensate?